In diretta qui dalla festa country di Ospitale e abbiamo cambiato il nostro collaboratore qui di fianco e abbiamo Davide, sempre dei Wild Eagles, DJ sempre, però Davide mi devi spiegare una cosa, sei già al secondo con questa stella nell'occhio, cosa vuole dire? Niente, abbiamo voluto fare questa esperienza da Aaron Watson, e quindi abbiamo voluto fare questa cena stasera, quindi tutti insieme, mi fai accelto di essere qua con Stefano, che lo conosco da molto tempo, io sono anche nativo qua di Ospitale e sono contento di essere qui con loro, fare l'attento al mixer, l'attento aiutare Stefano col country, vi discorrendo. Però so che Davide che tu non fai solo country, io lo so se posso dirlo, se Stefano mi tira una scarpa o qualcosa, ma parliamo in realtà di Davide che cosa fa? Tutto tondo, anche se esce dal country, no? Sì, io pratico, faccio DJ, il mio nome d'arte è Sintras DJ, faccio dance, 70, 80, 90, 2000, 2010, afro, liscio, cumbia, tutto il genere, bene o male tutto, di tutto un po', diciamo. Quindi lavori tutte le sere praticamente? Sì, quando chiamano sì. Quindi stasera cercherai di contaminare un po' con qualche anni 70, 80, la loro solo country o solo country? No, stasera solo country. Se l'ho bacchettata? Se l'ho bacchettata dal boss. E adesso la domanda a fregatura, che cosa mangerai? Quello che vi passa la cucina. C'è niente, è un panino a te? No, 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 abbiamo il nostro menù, sicuramente se poi qualcosa da mangiare c'è, due o tre cappellacci, due o tre cappelletti ci sono. Allora, grazie a Davide DJ, Sintras DJ, per essere stato qui con noi, e ci vediamo prestissimo con un'altra diretta su Country Live Web TV con un altro grande DJ di Festa Country Ospitale. Grazie, ciao, grazie.